Benvenuta Stefania, Stefania Ricci, direttore del Museo Salvatore Ferragamo e della Fondazione Ferragamo, nonché membro dell'Advisory Board a The Eats Academy. Mi piacerebbe parlare del tuo percorso. Che strada hai fatto? Ho fatto una strada, cara Barbara, molto complessa. Nasco come storica dell'arte, poi casualmente ho cominciato a lavorare a Palazzo Pitti con quella che era la direttrice del primo museo italiano dedicato al costume e alla moda, Cristina Piacenti Ascheng, presidente di un'associazione di studiosi di storia del tessuto e della moda a livello nazionale e mi aveva chiesto se gli dava una mano a gestire questa associazione. Poi ho cominciato ad entrare in questa diciamo mondo della moda e lei mi ha detto guarda mi piace tanto come lavori, te la sentiresti di cominciare a collaborare con la Galleria del Costume dice avrei un progetto totalmente nuovo e pioneristico di fare una mostra di scarpe sul Salvatore Ferragamo. Io ho detto ma io di scarpe non so niente quindi mi sono consultata con la mia docente Mina Gregori la quale mi ha risposto che la metodologia che avevo per studiare le tavole di giotto le poteva applicare per studiare le scarpe di Ferragamo. La mia formazione di origine ha fatto sì che avevo una struttura museale che ho applicato immediatamente da Ferragamo. Loro avevano già un bell'archivio, io però gli ho dato un'organizzazione cioè un database, un'idea di conservazione. Intanto facevo queste mostre itineranti nel mondo, nel frattempo ho cominciato a fare l'archivio di Emilio Pucci. Contemporaneamente continuava a lavorare per la Galleria del Costume finché non sono riuscita con l'aiuto di Fiamma Ferragamo a instaurare questa idea di questo progetto di arrivare ad un museo partendo da zero. Non c'erano esempi a cui guardare. Piano piano questo museo è cresciuto, è diventato un museo sempre meno musee di impresa, ma ha cominciato a trovare dei temi di interesse per le nuove generazioni che devono imparare dal passato per costruire il futuro. La fondazione è venuta dopo, collabora ovviamente per il museo perché loro gestiscono l'archivio, però lo scopo della fondazione è quello proprio della formazione. Tutto quello che può aiutare a formare le nuove generazioni su quelli che sono stati i principi su cui si è fondata la storia di questa azienda. L'idea della funzionalità e non solo dell'estetica, quindi il rispetto del consumatore al quale va l'oggetto. La ricerca, l'innovazione e poi questa grande passione, questa poca distinzione tra la vita e il lavoro che fa parte un po' del lavoro creativo. Questi sono i veri valori che vanno raccontati, non è tanto il successo e questo è uno dei motivi per cui ci piace partecipare a queste iniziative come la vostra ed è una mission voluta proprio dalla proprietà, traslare alle nuove generazioni i valori più che i fatti, far capire come è dal passato che si può attingere tante idee per il futuro, no? Se non si conosce diventa difficile poter progettare il nuovo. La sostenibilità, uno dei pilastri che ci accompagnerà da qui a per sempre, oserei dire, responsabilità creativa, riciclo, circolarità dei materiali. Ne hai fatto una mostra, ne hai fatto un libro, ci racconti brevemente questa esperienza. È stato un progetto tra i più entusiasmanti che ho fatto, anche tra i più difficili, perché la sostenibilità implica tante conoscenze e implica anche tante persone perché vuol dire conoscenza dei materiali, conoscenza dei processi, quindi sono delle competenze che io personalmente non ho. Però secondo me è il pensiero che deve diventare sostenibile. È un processo non veloce né facile perché indica una filiera che deve chiaramente cambiare, il che naturalmente non è un processo semplice perché ci sono anche tante piccole aziende che hanno o possono avere difficoltà a fare mutamenti di modello proprio di business e di modo di lavorare. E questo va rispettato perché la sostenibilità, non ce lo dobbiamo dimenticare, è il rispetto anche delle persone, quindi del lavoro delle persone. Lo scopo anche del museo è quello di avere una responsabilità sociale nel confronto del popo pubblico e anche del territorio dove si opera come voi penso l'abbiata anche nel vostro territorio. Assolutamente. Tu hai avuto modo di vedere l'archivio creativo di ITS, sei con noi da qualche anno, c'è una collaborazione, uno scambio continuo. Che valore ha l'archivio di ITS? Io penso abbia un grande valore perché è come vedere un'evoluzione della storia della creatività e poi vedi anche quanto proprio in queste occasioni in cui la mente libera molti di questi designer, direi tutti, hanno anticipato di gran lunga i tempi. Il portfolio specialmente fa vedere il processo mentale a cui sono arrivati, dove già si vede che le domande e di quello che sono le problematiche contemporanee si ritrovano all'interno di questo abito, di questo accessorio che però è molto altro. Una domanda aperta alle vite parallele. Se tu non fossi tu, chi saresti? Chi vorresti essere per un'ora, per un giorno, per un mese o per sempre? La Barbara Franchin. Perché mi diverto così tanto, cioè in questo aspetto, no? Mi piacerebbe proprio lavorare con delle startup perché mi sento proprio come una neofita che deve imparare e sono attratta sempre di più da queste sperimentazioni. E forse questo è un auspicio veramente meraviglioso, no? Continuare a imparare, a studiare, a scoprire e non stancarsi mai di niente. E poi io vi auguro questa aria internazionale, no? Perché già si respira anche nel modo di proporre il premio, nel modo di proporre quindi anche l'Academy e sono sicura che è destinato a un successo. Speriamo di creare un posto dove la creatività abbia tutta la dignità che merita, dove ciascuno di noi possa risvegliare la propria creatività che sia stata dimenticata in qualche cassetto o frustrata perché non considerata produttiva economicamente. Trieste è aperta, è a braccia aperte e il nostro sogno è proprio quello di sentire tante voci insieme di nazionalità diverse, bambini, adulti, stare assieme. Ecco, questo è il nostro desiderio più grande. Grazie Stefania di queste bellissime chiacchiere assieme e grazie anche per aver accettato di entrare in questa avventura di Zarcademy. Ci divertiremo, faremo tante belle cose. A presto, anzi a prestissimo. A prestissimo. Ciao, ciao. Ciao a tutti.